Sempre in un posto, se poi ci facciamo un video, un po' urlare, un mezzo a dolce e in cardine, giucci, seduto sul basapolcione, vestito bene, una festa, è una cosa particolare, praticamente c'è un peccante di musiche d'amore, tutto incartato e praticamente venne alla fine, c'è un pezzo che tutto insieme, poi c'è un peccato e finisce all'altra, camionate, tir, pieni di sound, piccante, tutto finito.